Ma prima di ascoltare il tecnico del Bari c'è un re d'ascoltatore in linea, ciao benvenuto a Tanto Non Capirai Buongiorno, ciao Peppino Peppino buongiorno Senti, io quando ti chiamai 15 giorni fa, dissi che l'intervista che aveva fatto Gian Gaspera non mi aveva piaciuto perché lui disse dai 3 ai 5 anni Quando tu dici Nicola che noi abbiamo 27-28 giocatori ma tu ci prendi anche per i Fontelli come ci sta prendendo per i Fontelli il signor Colantuono e Soliano perché io se tu ben sai quando c'era Nicola io l'ho attaccato di tutto perché questo signor Gian Gaspera se fosse stato all'era di De Palo e Matarrese a che sono riuscita, a molto freddo tra i vecchi e chili e chili di pomodoro ma quattro ma sentite un po' ma è possibile che un Bari deve essere umiliato da queste persone e io sono due partiti che non vado più allo stadio basta, mi sono stancato a umiliare e mio nipote quando voglio dire ma dov'è, a dove va, ieri è andato anche a Cappi ma qui non faccio freddo ma non vedi che ti sono appicchiato a un Bari e poi quell'altro signore che chiamò l'altro giorno che non mi ricordo disse noi non dobbiamo protestare e che cosa vuoi fare? e io sono stato umiliato all'aspetto sono stato umiliato a Trapani sono stato umiliato all'interno sono stato umiliato vicino a Proveccelli ma che cos'è? Nicola, chi si dò? non c'hanno a umore forse il Presidente mora e dice da sabato cominciamo che cosa? ma tu sei 34 anni non so se sto prendendo pallone 34 anni non so se posso stare ecco sono tutti tutti che bisogna portare tutti grazie va bene va bene ciao ciao Peppino grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti